benvenuti in questo nuovo video ragazzi in questo video vi faccio vedere come velocizzare un parent 3.1 ok andate su innanzitutto apri il programma l'opzione in descrizioni andate su connessione qua vi darà un altro numero rimettete 445662 guardate a banda qua mettete 10 0, 0 2329 1890 e 14 poi andate su bit torrent qua sarà disabilitata poi mettete abilitata applica ok e andate in postazioni poi andate avanzate qua mettete vero poi più o meno aspettate si qua qua vi darà un altro numero mettete il valore 2 questo qua ok andate in nuovo poi giù 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 qua vi darà 20 mettete 15 qua sempre ok e adesso vedete che è migliorato il download vedrete che è migliorato a me non è cambiato niente assolutamente perché ho già fatto questa cosa ma per voi andrà molto più veloce è un trucchetto molto semplice che si impara alla prossima ragazzi e arrivederci